ciao io sono sami da posisi accademia in questo video vi mostrerò come risolvere windows media player ha riscontrato un problema durante la riproduzione del file quando sto cercando di riprodurre video con windows media player il lavoro video si interrompe e ricevo questo messaggio di errore con x rossa windows media player ha riscontrato un problema durante la riproduzione del file cerco di diversi software per la riproduzione del video ma non lo fa lavoro vado direttamente a support.microsoft.com poi nella casella di ricerca scrivo fissare il video di windows media player infine scaricare microsoft fix it risoluzione dei problemi il link per il download sarà disponibile per voi in zona descrizione di questo video in basso cosa fa microsoft fix it può compiere riparare automaticamente problemi di windows media player se il giocatore non si avvia streaming non funziona quando non è possibile sfogliare o cercare i supporti windows media player potrebbe non essere impostato correttamente e non può essere eseguito come previsto le impostazioni di windows media lo streaming di rete potrebbe essere danneggiato windows media player biblioteca potrebbe essere danneggiato windows media player 11 non si avvia o alcuni elementi dell'interfaccia utente sono vuoti impossibile installare windows media player 10 11 è possibile selezionare eseguire ora o advanced download per essere eseguito su un computer diverso o disconnesso a scaricare e salvare microsoft fix it strumento portatile fare clic su sfoglia selezionare l'unità flash h nel mio caso quindi fare clic su salva al termine del download accedere alla cartella risolvere il problema portatile e fare doppio clic in archivio il lancio risolvere il problema punto ex e quindi selezionare la categoria per filtrare la risoluzione dei problemi correzione in base problema del computer o di individuare selezionare dal 28 disponibile risoluzione dei problemi selezionare problemi il video di windows media player e di altri mezzi di comunicazione o biblioteca quindi su esegui ora pulsante dopo l'installazione completa risoluzione dei problemi di windows media avviare selezionare e fare clic su individuare i problemi e applicare le correzioni per me dopo la risoluzione dei problemi rileva i problemi selezionare e fare clic su ripristinare windows media player quindi selezionare e fare clic su le finestre di ripristino lettore multimediale biblioteca dopo la risoluzione dei problemi è completa l'elenco dei problemi sono stati trovati e lo stato di correzioni che sono stati applicati è possibile fare clic su visualizzare i dettagli del report che memorizzati in i dati delle applicazioni nel vostro computer ora si può provare windows media player per riprodurre il video ora è perfettamente funzionante spero che queste informazioni siano utili grazie per l'osservazione forse accademia si prega di come iscriviti condividere questo video e visitare il nostro sito web post it academy.com